Allora, ci puoi dire qualcosa degli eventi di oggi, dei concerti? Ci saranno cinque concerti, un itinerario musicale in una città di Orte, cominciando alle 11 alla Chiesa di San Biagio, poi a mezzogiorno a Palazzo Roberteschi, alle 15 l'Orano Storico in Cattedrale, alle ore 16 un insambio di fiati storici al Palazzo Vescovile e per finire alle 17.30 nella Chiesa di San Biagio il primo atto dell'Orfeo del Monteverdi. Suonato e seguito da studenti, ragazzi, appassionati, professionisti di musica antica che hanno frequentato per anni i corsi qui a Orte intitolati a Trevino Alberti e adesso abbiamo creato questo ensamble per fare esperienza con loro e per far rivivere questi belli posti a Orte. Quindi una giornata intera di concerti? Sì, esatto. Ci vediamo più tardi, buona giornata. Anche a voi.